ore 4 ore 5 questo è il palmetto del nostro hotel e le mille scale che dobbiamo scendere perché siamo al terzo piano. Cosa ne pensi di questa cosa, Flavio? Non penso. Siamo arrivati a Kevin Garden, passeggiata e soprattutto... ... ... Ciao Allora, dopo pranzo e caduta di voce siamo arrivati al brindis Siamo nella stanza, nelle stanze dedicate al partenone Quindi io da brava archeologa sono molto interessata alla cosa E Flavio sta facendo un sacco di foto con i 50 mm E' un po' di più E' un po' di più Grazie a tutti 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 Grazie a tutti